C'era una volta, c'era una volta un ragazzo che a breve sarebbe passato dall'essere bambino a diventare adolescente. Avrebbe dovuto dimostrare, come data tradizione della sua cultura ebraica, di essere adulto, il cosiddetto bar mitzvah, e fu così che il padre, con la scusa di organizzare un viaggio per raggiungere la nonna paterna, lasciò andare suo figlio per la prima volta in treno da solo. Però formalmente non lo lasciò andare da solo perché assunse a sua insaputa dieci attori con il compito di interagire durante il viaggio e andando a creare dei momenti di stallo. Questo al fine di verificare come il ragazzo avrebbe reagito se da bambino o da adolescente. Tutto viene organizzato al dettaglio, peccato che il ragazzo abbia la conoscenza del piano del padre e quindi parte preparato, pronto a superare le prove che lo aspettavano. Durante il viaggio inizia a interagire con tutta una serie di personaggi bislacchi, strani, che lo riempono di domande, lo coinvolgono in discussioni di diverso tipo. E il ragazzo pensa quanto sia stato figo il padre a organizzare una cosa del genere. Peccato che non sa una cosa importante. Ha preso il treno sbagliato. E il viaggio che tutti noi stiamo facendo bene o male da marzo 2020 e il come reagiamo a confronto delle nostre certezze che in un attimo vengono smontate dall'imprevisto, questo fa la differenza. Io ho creato il percorso di coaching Diventa protagonista della tua vita è un percorso che ho studiato per i libri professionisti che hanno il desiderio di un reale cambiamento di trasformazione ed evoluzione della propria persona, sia a livello personale che a livello professionale. Diventa protagonista della tua vita un viaggio. È il tuo viaggio oppure il vostro viaggio, se siete coppia o team. Si parte con la consapevolezza del cambiamento che si desidera fortemente e durante tutto il viaggio capiterà l'inaspettato che questo inaspettato andrà a modificare il tuo modo di vivere il tuo spazio come fino ad ora lo avevi percepito. Cambierà il tuo punto di vista e modificherai il tuo modo di agire davanti a quelle certezze alle quali eri abituato perché l'inaspettato spesso poi si trasforma in una grande opportunità e andiamo alla scoperta quindi dei tuoi talenti e delle tue infinite risorse. L'inaspettato è quello che puoi far fin da oggi tu con un semplice gesto per la persona che ami un sorriso per la persona che incontri un dono che fai a te stesso per regalarti uno spazio ed un tempo per vivere, per prenderti cura di te. Il risveglio avrà inizio piano piano e ti accorgerai dei molteplici strumenti che hai sempre avuto a disposizione per goderti la vita oltre il lavoro ma che rimanevano lì da qualche parte. Se con costanza, perseveranza e rispetto del tempo li metterai in pratica ti assicuro che potrai diventare il protagonista della tua vita e smetterai di sentirti una comparsa. Non è una questione di cambiare ma solo il forte desiderio di evolversi. Se vuoi farti un regalo vero regalati un viaggio alla scoperta del cambiamento che desideri. Sono aperte le iscrizioni anche per questo mese rimangono solamente due posti perché ogni mese prendo solamente 5 coaching con i quali lavorare e possiamo entrare in contatto insieme dal sito www.gianvittotraquilio.it potrai accedere a diversi pulsanti contattami dove possiamo organizzare la nostra call gratuita di 30 minuti per conoscerci prima di tutto e poi per capire se i miei personali strumenti di coaching sono allineati con il tuo desiderio di cambiamento, trasformazione ed evoluzione. credo che sia tutto a me non basta a me non resta altro che salutarti con il mio consueto buio però prima clicca mi piace e condividi il video perché condividere rende libere le persone. Un saluto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti